Nel 1876 nasce a Milano Laura Cantoni. Laura Cantoni diventerà, con il nome e il cognome del marito, Orvieto, una delle più importanti scrittrici italiane nell'ambito della letteratura per l'infanzia. Il suo libro più famoso, quello che sicuramente non manca in nessuna casa, è Storie della storia del mondo. È una raccolta di storie greche e barbare che doveva essere parte di un progetto più ampio, perché Laura Orvieto aveva in mente di raccontare, di riunire tutta la mitologia intorno all'origine del mondo, della civiltà, dell'universo. Ma era un progetto molto ambizioso, procedente passo per passo, scrisse anche molti altri libri conosciuti e fortunati, sebbene Storie della storia del mondo sia comunque il suo più importante. Allora, io vorrei cominciare a parlare di questo libro partendo da me, perché è stato uno dei primi libri che ho letto. Nell'estate dei miei sette o otto anni qualcuno mi mise tra le mani una versione adattata dell'Odissea. Ricordo ancora che aveva una copertina tutta rossa, non c'era scritto il nome dell'autore, non c'era scritto né Omero né c'era scritto il nome di chi l'aveva adattata, perché era evidentemente un adattamento. Io rimasi la vita affascinata dal racconto di quest'uomo che voleva tornare a casa. Quello che mi ricordo è questa sensazione infinita di un ritorno che non era possibile. Mi trovavo in quel momento in vacanza, in una casa di amici, non lontano da Messina, che è la città dove sono nata, quindi ero in Calabria abbastanza vicino, però avevo questa sensazione anche io di dover attraversare il mare per tornare a casa. E dentro di me qualcosa diceva, speriamo di essere più fortunata di questo Ulisse, perché io quando voglio tornare a casa, poi voglio tornare a casa, non ci voglio mettere tutto questo tempo. Ecco, questa è l'origine di quello che accadde poco dopo, è difficile poi datare esattamente gli incontri con i libri nell'infanzia, ma credo uno, massimo due anni dopo, ricevetti in regalo le storie della storia del mondo e ritrovai la stessa atmosfera, quindi la stessa aura di storie antiche, ma raccontate in un susseguirsi velocissimo una dopo l'altra, quindi non soltanto la storia di uno che si intrecciava magari con altre piccole storie di altri, ma la storia di tante persone, quindi la storia di pari, della storia di tutte le storie della fondazione della nostra civiltà. E venivano raccontate da una voce che mi sembrava sua dente, che mi sembrava familiare, molto femminile, che era quella di una donna che parlava con due bambini. Per cui nel racconto si inserivano le domande che avrei voluto fare io, gli interventi, gli inserti che avrei voluto fare io. Le storie della storia del mondo è un libro così fortunato durante la sua prima vita, quella che seguì immediatamente la sua uscita editoriale, fu subito amatissimo, mi ha detto tantissimo, fu tradotto in molte lingue, proprio perché riesce ad unire questo aspetto divulgativo con un aspetto discorsivo e anche familistico, nel senso che sembra di stare proprio lì dentro un focolare con Laura Orvieto e con i due bambini a cui sta raccontando questa storia. Chi era Laura Orvieto? Questo ovviamente l'ho scoperto molto dopo, l'ho scoperto da adulta. Laura Orvieto è stata, è nata appunto in una famiglia milanese, una famiglia molto agiata, aveva un rapporto conflittuale con la madre, sposò Angelo Orvieto e cominciò a collaborare insieme a lui alla rivista Il Marzocco, una delle riviste più importanti dell'epoca. Cominciò a scrivere rubriche, a scrivere storie e finalmente a un certo punto sentì che raccontare libri, raccontare storie ai bambini era la cosa che più rompeva le remore, le sensazioni appunto che la trattenevano dalla vita intellettuale. Lei era una donna molto intelligente, frequentava altre scrittrici, altre intellettuali come Sibile Aleramo o Amelia Vinkerle Rosselli, la madre dei fratelli Rosselli, quindi viveva un'atmosfera di grande fervore, di grande discussione anche culturale. Però nei suoi primi scritti si avverte che non ha ancora trovato la sua strada e a un certo punto invece cominciando a scrivere storie per bambini ottiene un grandissimo successo. Purtroppo con le leggi razziali e durante il fascismo le sue storie, i suoi libri vengono proibiti e quindi vive anche un momento, un tentativo di oscuramento che però per fortuna passa perché le storie sono più forti dei regimi che vogliono negarle, che vogliono proibirle e tutt'oggi la storia della storia del mondo è un long seller, quindi è uno di quei libri che sempre si compra e che sempre viene regalato ai bambini. Nonostante appunto abbia questo tono di racconto di un adulto ai bambini, non è un libro paternalistico o maternalistico in questo caso ed è molto difficile. Una delle cose che io penso spesso della letteratura per ragazzi è che va scritta ad altezza di bambino, quindi va scritta con un contatto con il nostro bambino interiore e non elargendo storie dall'alto di una qualche età. Quindi quando si racconta, si trascrive una storia come se te la stesse raccontando qualcuno appunto, questo rischio è molto forte, ma in realtà la storia del mondo non lo corre. La scrittura di Laura Orbietto è una scrittura davvero elegante, molto nitida, molto limpida, priva di fronzoli, diretta, ma non per questo poco curata, anzi direi che è una donna che evidentemente frequentava delle ottime letture, aveva una consuetudine con l'utilizzo di un italiano molto alto e sapeva come scegliere i temi e i toni giusti per i bambini. Due parole voglio dirle anche sulla bellezza in ogni epoca di raccontare le storie della storia del mondo, cioè di raccontare i miti. Recentemente una scrittrice per ragazzi contemporanea che io amo, che si chiama Catherine Randall, ha scritto che i miti e le leggende sono l'esperanto della letteratura per l'infanzia, cioè sono quello che ti consente di comunicare anche con una persona che è cresciuta in un tempo e in un paese distante dal tuo, dai tuoi. E questo è vero perché i miti e le leggende, le storie, le fiabbe nella loro essenza si ripetono uguali e trasmigrano soprattutto, si ripetono in diverse epoche, si ripetono in diverse parti del mondo, ma soprattutto non conoscono frontiere, quindi è facile così come è facile che la storia del diluvio, che la storia appunto della creazione passino da una religione all'altra, è anche facile che le storie di matrimoni riparatori, di matrimoni infelici, di suicidi per amore, di tutto quello che ci piace raccontare e pescare appunto dalle storie più prossime a noi, poi che sono quelle del mondo classico, del mondo greco, si ritrovano in realtà molto simili anche in altre culture e addirittura a volte possiamo trovare delle metamorfosi, possiamo vedere come si sono trasformate e sono diventate per esempio delle fiabbe e qui si aprirebbe tutto un lunghissimo discorso appunto sui personaggi che cambiano epoca, che cambiano magari connotati, ma che in fondo hanno sempre a che fare con la fortuna, con la sfortuna, con il sortileggio, con un talismano e soprattutto con la possibilità di cavarsela. Ecco in tutte le storie che racconta Laura Orvieto, che sono originali come rivisitazioni anche del mondo appunto del mondo classico che lei che le racconta, sono diverse dalle versioni che troverete in altri volumi, sia più seri sia per bambini, c'è sempre questa sensazione di riuscire a cavarsela in tutte queste storie, forse è proprio questo che piaceva alla Nadia Terranova bambina e che piace ancora oggi ai bambini di tutto il mondo, questa necessità di cavarsela e questa capacità di apprendere da soli come fare.